Ok, vi mollo. Oh, Peter, sono così preoccupata. Dove ti hanno mandato? Non posso dirtelo. Non devi avere le mani in pasta. Florida? Ehi, sii prudente. Aspetta, papone. Prima di andartene puoi insegnarmi a radermi. Per cominciare dovresti raderti il pume. Hai un centimetro nascosto lì sotto. Queste sono le cose che mi mancheranno. Beh, questo claxon non c'entra niente, però devo andare. Ho passato una bella giornata col figlio Cicciottello. Comincio a rispondere positivamente alle bacchettate sulle natiche e sulle nocche. A proposito di natiche e nocche, vogliamo dare fiata alla tromba? Suona bene la cosa. Mi chiedo solo se posso svelarti una delle mie fantasie sessuali più intime e profonde. Oh, dammi solo il tempo di ruttare attraverso il naso. Ho bevuto del sers. Ok, vai, spara. Bene, magari penserei che hai una sciocchezza, ma mi accita da matti quando un uomo confessa le nefandezze che compie come imprenditore. Ah sì? Allora sbaverai per questo. Ho ordinato al birrificio di fare le lattine con materiale tossico non testato solo per risparmiare qualche dollaro. Esattamente quello che volevo sentire. Grazie, Carter. E questa è la notizia pubblica di Channel 5 News. Qui Trisha Takanawa sotto copertura con la rivelazione sciocca sul birrificio Potaket Patriot. A seguire Papa John. Si tinge le sopracciglia? Sto andando a letto con lui per scoprirlo, anche se sono quasi certa che la risposta è sì. E stop! Ciao, ma che succede? Succede che ho concluso la mia indagine. Ma non riesco a capire. Io credevo fossimo innamorati. È solo quello che ti ho fatto credere, spiacente. Ma devo andare adesso. Chris? Ciao, nonno. Sto facendo praticantato. Vuoi dire che stavi lavorando per Trisha? Scusa, un attimo. Devo prendere venti secondi di sottofondo. Già, e che stai facendo? Ma adesso dobbiamo ricominciare. Mi manca così tanto, Griffin. Di tutte le donne che mi hanno portato a far ricoverare Barbara, lei era quella che per me significava di più. Lo so. Tipo che un giorno era la mia mamma tigre e il giorno dopo non lo era. E il giorno prima di quel primo giorno neanche allora lo era. Ma il punto è che lei ci ha ferito, Carter. Dobbiamo fargliela pagare. Dobbiamo vendicarci. Buonasera, sono Tom Tucker. Tra pochissimo, Nicki Minaj. È un orso? Ma prima, congratulazioni alla nostra giornalista Trisha Takanawa. Esatto, Tom. Con la recente inchiesta sul birrificio, si è guadagnata una nomination a un Emmy per la TV locale. Il termine locale ferisce. Ma certo, Griffin. Ecco come avremo la nostra vendetta. Andremo agli Emmy locali e metteremo in imbarazzo Trisha durante la serata davanti ai suoi colleghi. Questa è una grande idea, perché la gente deve sapere che Trisha è un'artista dell'inganno ancora più di Baden Powell, il fondatore dei Boy Scout. Signora, vorrei portare suo figlio in mezzo ai boschi. Cosa? Mi sembra un tantino sospetto. E se le dicessi che indosseremo entrambi i pantaloncini e fazzoletto e che gli darò delle medaglie, se farà quello che dico? Torniamo ora su Rational Geographic. Dato che una spedizione in Africa sarebbe stata piena di cose schifose, la nostra truppa ha deciso di restare in ufficio. Ah, mamma, papu, un pipistrello! Sotto cielo, è entrato in casa un pipistrello. Beh, tutto bene, state calmi, quello potrebbe essere nonno Dracula. L'avranno mandato per farci uno scherzo. Ehi, ciao nonno, allora come hai dormito ieri notte? Se fosse stato lui avrebbe risposto come dormo ogni notte, a testa in giù, no? Va bene, ma Peter non possiamo lasciar volare un pipistrello in casa, dobbiamo fare qualcosa. Tranquilla, Lois, mi ne sbarazzo io. Sarà semplice, come quando mi sono fatto allungare il pene. Dottore, voglio che mi arrivi alle ginocchia. Mi hanno alzato le ginocchia. Sentite, ho ideato un piano perfetto per catturare il pipistrello. Ho comprato questo elicottero telecomandato a cui ho deciso di attaccare questa pistola. E vi assicuro che farlo volare non è semplice. Peter, a me non sembra molto... Ci siamo. Non avendo modo di premere il grilletto da qui l'ho collegato a un timer. Ma non ricordo a che ora l'ho messo. Ah, moriremo tutti! Bene, ora il pipistrello ha una pistola e i miei coltelli. Cosa? Perché gli hai dato i coltelli? E qual è il problema? Speriamo sul funzionamento dell'elicottero. Che diavolo è quella roba? Sto cercando di proteggermi da tutte le malattie contro le quali non sono vaccinato. A proposito, hai una vaga idea di tutti i germi che ogni giorno trascini in questa casa? Da adesso in poi dovrò chiederti di indossare queste scarpe quando sei in casa. Quelle dove le hai prese? Mettitele e leccati le labbra! Stewie, forse stai un tantino esagerando. Un'igiene appropriata dipende da ognuno di noi, Brian. Infatti ho già avvolto Chris nella pellicola. Adesso sono un dramezzino scadente! Interrompiamo il programma per un'ultima ora. Le vaccinazioni infantili a Coag sono diminuite in modo vertiginoso a causa di una recente campagna mediatica guidata dal pettegolissimo Peter Griffin che qui vediamo nel cestino della bicicletta di Harry Thomas. Non può essere vero, giusto? Sapevo che una di queste doveva essere casa mia. Mondo cane, Peter. Grazie a te nessuno sta più vaccinando i propri figli in questa città. Ti rendi conto del danno che hai fatto? Danno? Che dici? Rendo il mondo un posto migliore. Come quando ero nella polizia di Instagram. Signorina, devo eliminare il pube. Adesso porto via questo. E il ritaglio è completato. Pensavo di farmi i buchi alle orecchie. Per gli orecchini a lobo, grossi. Così potrò lavorare in un negozio di moto a lenta la tensione. È una pessima idea. Perché ho dei lobi pazzeschi, lo so, me lo dicono tutti. Wow, guarda là. Botta e via multietnica davanti a noi. Ma come diavolo parli? Quello è un essere umano. Scusa, un mio amico mi ha mandato un casino di porno rumeni. Ogni ragazza che vedo la immagino sdraiata su un tavolo. Sì, non era necessario questo chiarimento, grazie. Scusami, Shelby? Ciao, sono Brian. Ehi, scommetto che qui vengono molti milionari e ci provano con te, eh? Ho indovinato? Lo facciamo spesso? Sì, diciamo che a volte capita. Volevi vedere qualcosa? Altro che... Ehi, lo posso provare? Ottimo gusto. È il nostro anello più raffinato. Voglio capire se me lo perdo quando scio ad Aspen. Sì, sì, va bene, va bene. Lo so che sono una nerd, ma ho sempre avuto un debole per gli uomini ricchi. Prendo l'anello e prendo il tuo numero. Eccolo. Chiamami. Che diavolo stai facendo? Costa diecimila dollari! Rilassati, Stewie. Basta che riporto l'anello quando non è di turno. Riavrò i soldi e lei non lo saprà mai. È un piano perfetto. Come Teddy Roosevelt quando è finito sul Mount Rushmore. Io ho vinto la guerra di indipendenza. Io ho vinto la guerra civile. Io ho conquistato l'isola di Guam. Oh, è terribile. Chris è ferito e noi siamo senza cibo né acqua. Lo so. Ho così sete che sarei disposto a bere l'urina di chiunque. No, non la tua, Chris, o quella di Peter, ma insomma... Sì, di chiunque. Mamma, papone, grazie per il vostro aiuto. Cioè, io volevo solo fare la cosa giusta, ma... adesso moriremo tutti. Ma avete sentito la cosa dell'urina? È il momento di andarcene via da qui. Consuela! Zia! Grazie al cielo, ma come ci hai trovati? Gli orecchini dei bambini hanno un chip. Oh, è grandioso. Puoi aiutarci ad arrivare al confine? Oh, ma siete già negli Stati Uniti. Su serio? Sì, questo è il Texas. Cosa? No, aspetta, abbiamo attraversato il confine e neanche ce ne siamo accorti? Cioè, questo è un problema, giusto? Insomma, politica a parte, siamo tutti d'accordo che è un problema. Grazie del passaggio, Consuela, e grazie per quella piccola deviazione ad Hollywood. Avevo ragione, oh, avevo ragione. Sì, ne valza assolutamente la pena. Chris, credo di doverti delle scuse. Non ho avuto fiducia in te. Sbagliavo a dirti che non saresti stato capace di prenderti cura di quei bambini. Invece hai rischiato la vita per loro. Beh, non volevo che venissero feriti. Esatto, perché tu ti preoccupi per gli altri, come ti preoccupi per Isabella. E se vuoi continuare a vederti con lei ed essere parte della loro vita, sappi che per me va benissimo. Stai scherzando? Non ci penso neanche badare ai bambini è un vero incubo. No, tu non ne hai idea. Sai quante volte vi ho messo nel forno da piccoli con la voglia matta di accenderlo? Beh, grazie ad avermi consentito di scoprirlo da solo. Ti voglio bene, mamma. Ti voglio bene anch'io, tesoro mio. Isabella, stare con te è stata una cosa bellissima. Ma ho capito che mia madre aveva ragione. Sono troppo giovane per prendermi certe responsabilità. Già, lo capisco. Ma so anche che un giorno sarai un padre incredibile. Allora addio, Chris. Addio, Isabella. Chris, è ora di cena. Abbiamo le polpette. Porca zuzzo. Abbiamo le polpette. Sì, ti ho sentito. Oddio santo. Oh, sono tutti morti. No, ti prego. No. Abbiamo le polpette. 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 Grazie a tutti